Abbiamo avuto un lungo e fruttuoso confronto con il Presidente del CONI. Siamo contenti del fatto che il CONI ha ascoltato con attenzione la nostra proposta di candidare l'Italia per le Olimpiadi del 2032. La proposta che il CONI ci ha assicurato approfondirà con la massima attenzione. Inoltre abbiamo anche preso contatto con il Ministro dello Sport, Spadafora, con il quale avremo un incontro la prossima settimana. La novità di questi giorni è che si aggiunge alle nostre due città, Firenze e Bologna, anche un'altra grande città italiana, Genova. Abbiamo incontrato con il Sindaco Merola e il Sindaco Bucci ad Arezzo in occasione dell'Assemblea del Lanci. Il Sindaco ha formalmente manifestato questa intenzione di Genova al CONI. Proprio oggi ne abbiamo parlato e quindi siamo ben contenti che si aggreghi una terza regione con una città importante che ha una grande storia di sport di mare, come sapete, anche a livello di grandi competizioni e che forse proprio perché vive un periodo impegnativo, sfidante, merita di darsi anche un obiettivo di sogno perché noi diciamo sempre che si comincia dai sogni. Quindi siamo fiduciosi, aspettiamo che il CONI possa fare tutte le valutazioni del caso. Nel frattempo continuiamo a lavorare perché si possa costruire un progetto credibile che è la prima cosa a cui teniamo. Poi perché no, per la Liguria possono essere anche un bel volano di rinascita.